Diciamo che il nostro obiettivo di partenza non era questo, però ci abbiamo preso il gusto, ci ha preso il gusto l'ambiente e sicuramente stiamo facendo un grande lavoro e è giusto che usciamo dallo scoperto e dire che puntiamo per arrivare alle Coppe Europee e tendeci stretto a questo terzo posto. Movimento sul primo palo di Gonzalo Rodriguez e poi il tap-in sotto porta di Astori, 1-1 della Fiorentina. Con Davide Astori e c'è ancora spazio per l'assalto finale adesso, pareggio assolutamente meritato della Viola, 5 dal termine e adesso può succedere di tutto. Grazie a tutti.